Questa mattina a Gazebo al mercato a Rivarolo della CGL per una cosa molto molto importante, una firma per l'etonesia. Ciao a tutti, sono Angelica Liottini, responsabile CGL dell'Alto Canavese. Siamo qui oggi in piazza Rivarolo al mercato proprio perché vogliamo raccogliere le firme per il referendum sull'eutanasia legale. Noi vogliamo che la gente sia libera fino in fondo, fino alla fine per poter decidere della sua vita. Abbiamo raggiunto l'obiettivo che era di 500.000 firme, siamo oltre un milione, ma ritenevamo opportuno anche in Canavese, anche noi della CGL, e poter aiutare, dare un apporto, un supporto a questa iniziativa importantissima. Noi vogliamo che si possa decidere fino in fondo della propria vita e della propria esistenza, con tutta la libertà possibile. La prima volta in piazza in Canavese per questo tema? La prima volta in piazza in Canavese su questo tema che è importante ed è giusto che anche il Canavese abbia l'opportunità, anche se dobbiamo ammettere che diverse associazioni, tutti i comuni della zona, all'interno del proprio edificio hanno raccolto firme per l'eutanasia. Noi siamo arrivati quasi alla fine, ma ci siamo, ci siamo anche noi. Qual è il termine ultimo per la presentazione? Il termine ultimo è il 30 settembre, però siamo proprio agli sgoccioli perché dobbiamo presentare e autenticare tutte le firme entro lunedì, ma noi lo faremo perché presenteremo tutto direttamente a Roma. La CGL c'è, la CGL c'è in questa iniziativa e come sempre siamo in prima linea. Grazie a tutti. E grazie per coloro che sono venuti a firmare.